Nel Vangelo di oggi preso da Giovanni al capitolo tredicesimo dal versetto 1 e seguenti leggiamo prima della festa di Pasqua Gesù sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine. Siamo entrati nel triduo pasquale e siamo chiamati a comprendere l'amore del Signore Gesù per tutti. Il suo non è solo amore ma è amore sino alla fine cioè portato fino alla perfezione è amore anche quando non conviene è amore anche quando tutti scappano via è amore nonostante tutto ed è proprio la memoria di questo amore fino alla fine che ci fa entrare nelle ore della passione e per non lasciare niente fuori. Gesù parte dai piedi le azioni che lui compie vengono descritte con dovizia di particolare si alzò da tavola depose le vesti preso un asciugatoio se lo cinze verso l'acqua cominciò a lavare i piedi ad asciugarli sono sette azioni come i sette giorni della creazione come a dire che Gesù non sta facendo semplicemente un rito ma una nuova creazione. Gesù comincia dai piedi i piedi in quel tempo erano lavati dagli schiavi era un compito da schiavo e Gesù vuole fare questo servizio per darci un esempio di come noi dobbiamo servire gli altri capovolge l'abitudine storica culturale di quell'epoca e anche quella di oggi colui che comanda per essere un bravo capo sia dove sia deve servire il servizio. Davvero c'è gente che non facilita questo certeggiamento gente superba gente odiosa gente che forse ci augura il male ma noi siamo chiamati a servire di più. Gesù parte ad amarci dalla parte più sconveniente di noi dal basso egli non inizia ad amare i nostri pregi i nostri talenti le nostre capacità egli invece parte dalle nostre zone d'ombra. Gesù nell'ultima cena si mette in ginocchio davanti ai suoi discepoli si inginocchia davanti a tutti anche davanti a giuda ama contro ogni speranza fa capire che amare non è guardare le persone dall'alto in basso ma dal basso in alto servendole con amore. A tutti auguro una buona giornata nella pace del Signore.